Con delibera numero 1033 dell'8 settembre 2020 è stata disposta dall'ASL di Pescara la riorganizzazione gestionale strutturale del blocco operatorio del presidio ospedaliero del capologo adriatico che prevede l'aumento del numero di sedute operatorie per gli interventi programmati che passano da 210 a 250 al mese, la creazione di un comitato buon uso sale operatorie il cui obiettivo è il miglioramento della risposta e l'abbattimento delle liste di attesa chirurgiche con l'ampliamento entro marzo 2021 del numero delle sale operatorie multispecialistiche che passano dalle attuali 11 a 17 di cui 2 al servizio dell'unità operativa di oculistica con un investimento economico di oltre 4 milioni di euro, prevista anche l'assunzione di 12 medici anestesisti rianimatori. Incrementeremo il numero delle sale da 11 a 17 di cui 2 per l'oculistica, un impegno di spesa di 4 milioni di euro e avremo un organico di 70 anestesisti con 12 anestesisti in più, quindi con un impegno di spesa di un milione e mezzo circa. Una maggiore efficienza del blocco operatorio di Pescara e un apporto per l'asla intera e quindi un miglioramento della qualità e della sicurezza per tutta la popolazione che afferisce al nostro servizio. Aumenteranno le sedute operatorie, si ridurranno quindi i tempi di attesa e cercheremo di stare in quelli che sono i tempi di attesa previsti dalle classi di priorità. Oggi siamo in grado di poter dire che l'ospedale di Pescara ancora una volta è in grado di dare risposte complete a tutti i pazienti che necessitano di cure, anche complesse e anche che richiedono non soltanto alta professionalità ma anche attrezzature di altissimo livello. Grazie a tutti.